Musica Bentornati a Univision, la rubrica di vita universitaria a cura di ATV e degli studenti dell'Università di Macerata. In questo numero parleremo di musicultura, scritture brevi, 150 ore, tesi all'estero e Olimpiadi Erasmus. Ma partiamo ora con il servizio sulla venticinquesima edizione del Musicultura Festival. Al Teatro della Filarmonica si sono tenute le audizioni live, protagonisti gli studenti dell'UniMC nella giuria e nella redazione di Shusha. Musicultura festeggia il suo venticinquesimo anniversario. Venerdì 23 gennaio, al Teatro della Società Filarmonica di Macerata, si sono aperte le audizioni live. I cambiamenti per quanto riguarda questo primo atto della venticinquesima edizione, che sono le audizioni, riguardano i generi che ospitiamo all'interno di queste audizioni. Si siamo aperti a generi mai forse avuti, da rap al rimescolamento di influssi gezzistici con melodie popolari. Abbiamo un po' una varietà che penso possa accontentare un pubblico vastissimo. È il premio tesi di laurea che consolida la collaborazione tra musicultura e l'Università di Macerata. È stato deciso in accordo con l'istituzione dell'Università di Macerata di concordare delle regole che consentano agli studenti che desiderano svolgere una tesi su un argomento legato al tema della canzone con riferimento speciale al venticinquesimo dell'attività di musicultura, appunto di fare questo lavoro potendo concorrere poi per un premio. Il potere svolgere una tesi sul tema della canzone italiana, della canzone contemporanea, credo che sia anche un doppio premio perché generalmente gli argomenti della tesi rimangono un po' distanti dagli interessi dei giovani. Gli studenti degli Atenei di Macerata e Camerino partecipano al festival in veste di giornalisti e di giurati. Un'occasione questa che sviluppa nei giovani spirito critico e collaborativo. È un'occasione di ascoltare e conoscere gente e soprattutto buona musica. Poi ho l'opportunità di appunto condividere questa passione che ho per la musica e la passione che ho per il giornalismo con compagni della mia età e colleghi di corso. Quest'anno Musicultura ha affidato il compito alla giuria universitaria di scegliere uno dei 16 finalisti. Quali criteri intende adottare la giuria? Come ogni anno la giuria universitaria svolge un ruolo di affiancamento alla giuria tecnica. Ci ha voluto anche affidare un ruolo maggiore di responsabilità cercando di darci appunto l'incarico di selezionare uno tra i 16 finalisti. Per i ragazzi mi sembra di notare che la parte che più gli stupisce alla fine del percorso è l'accorgersi che la formazione di un giudizio è un processo che non ha mai fine. È come se si fosse sedimentata una sorta di fiducia reciproca che ci ha portato quest'anno a decidere di introdurre questa novità ovvero sia la scelta da parte del giuria di studenti di uno dei 16 finalisti. I 16 finalisti saranno presentati il 22 marzo al Teatro Persiani di Reganati. Tra questi verranno proclamati gli otto vincitori che si esibiranno sul palco dello Sferisterio. Che cosa hanno in comune? SMS, Twitter e le tavolette di argilla usate per scrivere nell'antichità. Le scritture brevi che sono al centro del progetto di ricerca della professoressa Francesca Chiusaroli che ha ottenuto un finanziamento a livello nazionale. Abbreviazioni, acronimi, segni, icone, indici e simboli. Un progetto interdisciplinare tra lingua e informatica sintetizzato dai social network. È questa l'etichetta di scritture brevi. L'interesse nel risparmiare spazio, tempo e denaro salvaguardando la comprensibilità del messaggio. Le scritture brevi come le abbreviazioni dei messaggini o come le icone dei nostri smartphone sono diventate ormai protagoniste delle nostre azioni quotidiane che avvengono tutte tramite in rete, attraverso la rete e noi studiamo tutte le forme di scritture brevi che però non riguardano soltanto l'oggi ma anche ci spingiamo poi all'indietro e addirittura fino all'antichità perché le scritture brevi sono sempre esistite. www.scritturebrevi.it Scritture brevi non è solo un hashtag ma anche un blog dove i giovani possono informarsi, discutere ed esprimere le loro opinioni. Un punto d'incontro tra professionisti, giovani e adulti per comprendere e analizzare lo sviluppo della lingua. Una piattaforma sui nuovi mezzi di comunicazione dove le forme del linguaggio vengono principalmente reinventate. Certamente il tema di essere in comunicazione con gli altri attraverso i social network e in particolare anche su questo particolare social network di cui oggi abbiamo parlato che Twitter è sicuramente uno dei modi tipici della comunicazione giovanile e i ragazzi hanno bisogno di sentirsi continuamente connessi agli altri e essere in comunicazione con gli altri. L'università cerca di capire questo mondo per dare delle risposte che siano adeguate a questa generazione. Sono 150 ore ma sono soprattutto per gli studenti un'opportunità di svolgere un'esperienza lavorativa retribuita all'interno dell'Ateneo. Stefano è uno tra i tanti studenti che partecipano al bando di collaborazione a tempo parziale dell'Università di Macerata. Questa collaborazione, meglio conosciuta come 150 ore, consiste nel supporto alle attività dell'Ateneo e prevede, al termine, una retribuzione finale di 975 euro che permettono allo studente di pagarsi buona parte delle tasse universitarie. I part-time si svolgono nelle biblioteche, portinerie o uffici dell'Università. Gli studenti lavorano sotto la direzione dei responsabili delle singole strutture che alla fine formuleranno un giudizio sull'attività svolta. Possono partecipare al bando tutti gli studenti regolarmente iscritti al secondo anno fino al primo anno fuori corso, semplicemente accedendo alla sezione iniziative della propria area riservata. Stefano, come sei venuto a conoscenza di questa iniziativa? Beh, vivendo appieno la facoltà e studiando, comunque stando lì, avendo modo di parlare un pochino con gli amici e guardando anche il sito dell'Università, ho visto che c'era questo bando. Guardando anche la possibilità di iniziare ad avere una piccola esperienza lavorativa, di avere anche un introito economico, ho deciso di partecipare. Cosa ti ha insegnato questa esperienza? Beh, prima di tutto fa capire che le cose uno riesce a capire nel concreto, quindi ovviamente inizi a capire come emergi tu all'interno di un lavoro in equip, quindi inizi a vedere che caratteristiche hai, che peculiarità, qual è il meglio di te, come ti trovi nell'interfaccia articole persone, quindi inizi a capire anche che cosa ti interessa a te rispetto al nuovo futuro, rispetto al lavoro, che comunque è un traguardo che tutti quanti noi andiamo a cercare prima o poi, cioè abbiamo questa esigenza. Silvia, ti sei sentita motivata nello svolgere questa esperienza? Sì, mi sono sentita motivata perché sia quando ho fatto la domanda, sia quando ho svolto il servizio. La domanda è perché il compenso comunque è consistente, quindi ti permette di contribuire anche a livello economico nella famiglia e soprattutto per le spese universitarie. E poi anche durante il servizio, perché è utile sia, io mi trovavo allo sportello informativo e quindi quando le persone ti fanno domande particolari, tu magari ti relazioni con problemi che prima non ti eri mai fatto, quindi scopri anche altre dinamiche dell'università, di altri sedi, informazioni che ti potrebbero essere utili anche nel futuro. Nicolò, a prescindere dal compenso, ritieni utile questa attività? Ritengo il part-time molto più formativo di altri stage all'interno dell'azienda, soprattutto per le mansioni che ho avuto da svolgere al CETRIL. Consiglieresti ad altri di fare la tua esperienza? Sì, la consiglierei per il contributo economico, ma soprattutto per il carico formativo che si porta dietro dopo questa esperienza. Volare in Florida per approfondire la propria tesi di laurea è quello che ha fatto una studentessa di scienze del turismo, Erika Marcantoni, grazie a una borsa di studio dell'Università di Macerata. Oggi parleremo con Erika Marcantoni, studentessa di scienze del turismo di Macerata. Erika, vincitrice del bando ricerca tesi all'estero, ha trascorso due mesi in Florida, grazie ad un progetto coordinato dal professore Alessio Cavicchi e Francesca Spigarelli. Sentiamo cosa da raccontarci. Ciao Erika, dunque, perché proprio la Florida e dove esattamente? Ho deciso di andare in Florida in quanto ho vinto la borsa di studi per ricerca tesi all'estero tramite l'Ufficio Rapporti Internazionali dell'Università di Macerata. Innanzitutto l'Università di Macerata sta iniziando una collaborazione con la Florida Gulf Coast University che si trova a Fort Myers in Florida. La Florida, inoltre, è uno degli stati in cui molte persone decidono di passare gli anni della propria pensione. Qual è l'impostazione del sistema universitario? Allora, io in questo contesto ho fatto ricerca, quindi non ho frequentato molte lezioni perché non erano previste nel mio piano di studi, però per curiosità ho frequentato alcune lezioni che erano inerenti al mio piano di studi e ho notato che il sistema universitario è un po' più pratico del sistema universitario italiano. Dunque, Enrica, in senso pratico, qual è stata la tua attività di ricerca? La mia attività di ricerca era quella di cercare di capire il punto di vista dei cittadini, dei residenti americani e in particolar modo della Florida riguardo le marche. Infatti, ho fatto diverse presentazioni alle marche, all'università e in altri istituti di formazione e dopo aver fatto queste presentazioni ho fatto compilare dei questionari che mi serviranno per la mia tesi, per la stesura della tesi. In questi questionari ho fatto diverse domande riguardo le marche e riguardo la Toscana. La tua esperienza ci insegna che le marche sono molto apprezzate, anche oltreoceano. Qual è stata la tua testimonianza? Esattamente, infatti nel mio questionario ho fatto alcune domande riguardo le marche, riguardo la Toscana, proprio perché volevo capire il punto di vista degli americani, riguardo una regione che comunque è molto conosciuta a livello internazionale, cioè la Toscana. Le marche invece non sono conosciute, però in realtà l'americano medio, io, diciamo, statunitense medio in età della pensione, è interessato a visitare luoghi diciamo tradizionali e non inquinati a livello turistico, diciamo inquinati forse non è la parola più adatta, ma luoghi intatti. Quindi erano molto curiosi riguardo le marche, tutti mi hanno detto che non conosceranno questa bellissima regione, che hanno scoperto tramite la presentazione che ho fatto, erano molto interessati a visitarla. Speriamo che anche voi vogliate cogliere le opportunità che l'Università di Macerata vi offre. A presto! Dall'11 al 13 aprile, Ascoli, città europea dello sport 2014, ospiterà le Olimpiadi Erasmus, riservate agli studenti di tutta Europa. Sono attesi più di mille partecipanti. Prima di Rio le Olimpiadi approdano a Macerata. Il countdown segna meno 80 giorni alle Olimpiadi Erasmus. Abbiamo qui con noi il presidente di SN Italia, Carlo Bitetto. Buongiorno, buongiorno. Ciao Carlo, ci vuoi dire cos'è SN Italia? Cosa fa? Come si muove all'interno del mondo universitario? Erasmus Network è l'associazione che da ormai 25 anni si occupa dell'accoglienza degli studenti internazionali in tutta Europa. Siamo presenti in quasi 450 atenei europei e in Italia siamo in 50 università. A Macerata è SN attiva da sei anni negli uffici del Centro Rapporti Internazionali, in via della Pescheria Vecchia. Gli Olimpiadi Erasmus nascono dalla collaborazione con le sezioni di Ancona e Camerino, in contemporanea l'approvazione del nuovo programma europeo Erasmus Plus che valorizza lo sport come momento di condivisione fra studenti. Noi di SN Italia abbiamo in un certo senso anche anticipato un po' l'Unione Europea perché già dall'anno scorso abbiamo pensato ad inserire lo sport tra i temi principali e quest'anno si svolgeranno proprio nelle Marche le prime Olimpiadi Nazionali Erasmus. Sarà Ascoli, già nominata città europea dello sport 2014, ad ospitare l'evento dall'11 al 13 aprile e ad accogliere gli studenti Erasmus provenienti da tutta Europa. Le Olimpiadi Nazionali Erasmus sono un bel evento e una bella opportunità per l'Università di Macerata ma anche per la Regione Marche in generale. Questo perché comportano un arrivo di 500 studenti Erasmus all'incirca provenienti da tutte le parti d'Europa e che si sconteranno nelle discipline base che sono quelle del basket, la pallavolo e il calcio a 5. Inoltre noi abbiamo pensato di mettere in questo progetto anche un altro progetto di SN Italia che è Exchange Ability che riguarda gli studenti diversamente abili e infine sarà un'opportunità anche dal punto di vista turistico per la Regione perché appunto verrà messo in evidenza il territorio marchigiano quindi le specialità gastronomiche e tutte le bellezze che il territorio ha da offrire e anche per quanto riguarda l'internazionalizzazione appunto è molto importante perché come sappiamo anche l'Università di Macerata è risultato uno degli Atenei che maggiormente si dedica a questo aspetto. Come sarà possibile per noi da casa, per gli studenti di tutta Italia seguire l'evento o partecipare all'evento? Perché comunque l'invito è steso agli studenti, insomma a tutti gli Atenei italiani. Sì, noi abbiamo SN Italia, un ufficio stampa che si occupa di questo però ci sono tantissimi canali che possono essere contattati, visualizzati ad esempio abbiamo una pagina Facebook di SN Italia che ha 5.000 like attualmente e un sito internet che ha 20.000 visualizzazioni inoltre tutte e tra le sedi dispongono di un sito internet personale abbiamo una pagina Facebook dedicata soltanto all'evento sportivo e anche Twitter e inoltre abbiamo le testate che si occupano, le testate locali delle Marche che si stanno iniziando a interessare all'evento. Le sezioni hanno già organizzato un amichevole di calcio Italia-Spagna e sono in fibrillazione con l'avvicinarsi di aprile. C'è grande attesa nel mondo Erasmus ma non solo, in tutto il mio universitario italiano per questo che davvero non sarà un evento, bensì sarà l'evento sportivo dell'anno. Nel darvi appuntamento alla prossima puntata di Univision vi lasciamo ora con la rubrica Un Eum in due minuti un libro dell'edizione Università di Macerata presentato dall'autore. Inauguriamo oggi la rubrica Eum in due minuti con Luigi Aurelio Pomante, Terramano, classe 1980 collaboratore del Centro di Studi e Documentazioni sulla Storia dell'Università e assegnista di ricerca. È scrittore, è storico, è giornalista, è ricercatore ed è Uniemc a fare da padrone a questo sfondo di cultura, storia e istruzione. Presentiamo ora i suoi libri edit Uniemc. Dottor Pomante, in un secolo di relazioni inaugurali qual è stata l'evoluzione storica del nostro Ateneo? Un'evoluzione abbastanza travagliata. L'Ateneo viene fondato nel 1540 tralasciando quel 1290 come data di invenzione della tradizione e poi nell'8900 viene prima soppresso, poi ricostituito, poi ridotto addirittura ad un'unica facoltà, giurisprudenza, per quasi 100 anni. Si arriverà nel 64 alla istituzione della seconda facoltà di lettere e filosofia e quindi l'avvio verso la nuova Università di Macerata. La dedica a Sandro Serangeli suggerisce una finità di intenti. È così? Sì, era una dedica doverosa perché con l'allora rettore Roberto Sani, del quale oggi sono allievo, ho conosciuto Sandro Serangeli, ho avuto la fortuna di collaborare con lui e con lui è iniziata questa raccolta di discorsi inaugurali, poi portata a termine nel 2012. Perché l'Università di Macerata è presa d'esempio nella storia delle università minori? Perché Macerata è proprio il classico esempio, il caso emblematico di Ateneo Minore, sia per proporzioni, sia per dinamiche che poi si riscontreranno anche in altre Atene. Penso a Sassari, penso a Siena. Monofacoltà, la lotta per il consorzio e soprattutto la lotta per la sopravvivenza, che arriverà per fortuna. Troveremo altri libri del Dottor Pomante nella serie appena inaugurata? L'auspicio è sicuramente questo, mi sto occupando di storia locale, quindi con il focus sull'Università di Macerata, ma anche su quelle che sono le dinamiche dell'Università italiana e soprattutto, chissà, magari tra qualche anno con la sopravvivenza e con l'implementazione delle attività del nostro centro di studi e documentazione sull'Università di Macerata, potremo pubblicare anche la seconda parte dei discorsi elettorali, quelli che arrivano fino ai nostri giorni. Nel complimentarci con Luigi Aurelio Pomante, ricordiamo che le opere sono disponibili nelle migliori librerie. Alla prossima puntata! Alla prossima puntata!